Dal 5 febbraio si può accedere ai piani personalizzati per le persone con disabilità ai sensi della legge 162 del 98. La Regione Sardegna ha dato il via all'ammissione del programma di piani dal 1 maggio 2020 per le persone a cui riconosciuta la condizione di disabilità con la certificazione al 31 dicembre 2019 o che abbiano effettuato la visita entro tale data, con il relativo rilascio della certificazione definitiva in seguito. Per presentare domanda basta compilare la modulistica presente sul sito www.comune.sassari.it insieme all'avviso integrale entro il 10 marzo consegnandola sia personalmente nella sede territoriale di riferimento del servizio sociale oppure tramite email all'indirizzo protocollo.comune.sassari.it Le richieste inviate dopo il 10 marzo verranno prese in carico dagli uffici in base all'ordine di presentazione e alle tempistiche a disposizione. Per qualsiasi informazione consultare il sito del Comune di Sassari o rivolgersi alle sedi territoriali dei servizi sociali del settore politiche, servizi e coesione sociale.